Ritorniamo insieme questa mattina dopo aver parlato di questo importante appuntamento che coinvolgerà la terra di Padre Pio Pietrelcina, vogliamo affrontare un argomento interessante, molto bello, legato ad una figura, la venerabile Enrichetta Beltrame Quattroocchi. Lo facciamo anche perché è una felice coincidenza, ovviamente non voluta, ci tengo a sottolinearlo in maniera molto sincera, perché ieri Papa Francesco attraverso il Cardinale Marcello Semeraro ha voluto promulgare il decreto che attesta l'eroicità delle virtù di Suor Lucia, l'ultima pastorella di Fatima, conosciamo bene la sua vicenda, la quale teorizzò proprio che l'ultimo scontro, lo scontro finale tra Dio e Satana sarà proprio sulla famiglia e allora la venerabile Enrichetta Beltrame Quattroocchi entra, potremmo dire, a pieno titolo in questo filone della famiglia così bello che poi anche attraverso la testimonianza dei suoi genitori è giunta fino ai giorni nostri. E per questo motivo voglio dare il benvenuto a Fran Massimiliano Noviello che è collegato con noi tramite Skype, postulatore delle cause dei Santi. Grazie. Buongiorno, ben trovato. Grazie, ti invito. Grazie per essere con noi, Padre Massimiliano. Allora, la coincidenza è anche legata al fatto che la scorsa settimana, il 16 scorso appunto, c'è stata la commemorazione del transito della venerabile Enrichetta Beltrame Quattroocchi che è una figura interessantissima che suscita molte riflessioni e tu hai parlato della sua vita come una provocazione in un convegno a lei dedicato intesa come, cito testualmente, azione intrigante e come chiamata invitante appunto alla santità. Quello che vorrei chiederti allora per partire è qual è stata questa santità che la venerabile ha portato avanti e come si è sviluppata? Sì, innanzitutto grazie ancora dell'invito e subito dico che nella vita di questa donna, della venerabile Enrichetta, non vi è nulla di confuso, di indeterminato. Se all'inizio è un po' incerta su che cosa fare nella sua vita, sposarsi o diventare sora, ciò non è dovuto al fatto che nella sua volontà e nel suo sguardo non ci siano chiarezza. Ma perché ella si inserisce in un flusso di grazia che cresce sempre più nella sua vita. Per cui grazia e vita sono strettamente interconnesse nella venerabile Enrichetta. Enrichetta ha collaborato con la grazia. La grazia si riversava in maniera abbondante e potenziava le sue facoltà spirituali ed umane fino poi ad abbracciare con gioia e generosità la sua vocazione. La sua vocazione è appunto ad essere figlia di genitori santi. Vedete, Enrichetta per parlare praticava l'ascolto e l'ascolto la cambiava. Cambiava non soltanto lei ma cambiava anche l'interlocutore. Da qui si comprende quella sua grande flessibilità mentale. Sapeva mescolare appunto mestolino, sapeva trovare i giusti ingredienti per dialogare, per stare con l'altro. E questo lo faceva con la sua personalità forte, la sua tenacia, la sua indole, con il suo carattere gioioso ma fermo. Di donna ricca di interessi. Attenta, curiosa, interessata e era tutta a disposizione dell'altro. Continuava, pensate, ad accogliere fino all'ultimo istante della sua vita. Era come un braciere, era come un braciere che ardeva in un contenitore fragile. Aveva diverse malattie. E quindi, ecco, io infatti ho sottolineato fortemente nel momento del convegno che abbiamo avuto questo forte richiamo al protagonismo del battesimo. E Righetta, ecco, lo sottolinea fortemente. E il battesimo è la radice di ogni carisma nella Chiesa. E quindi rilancia un cammino di santità aperto, non solo ai sacerdoti, ai religiosi, ma a tutti, a tutti. Le persone che si lasciano guidare dallo Spirito non li puoi catalogare, chiudere in uno schema, perché appunto questo è l'alfabeto di Dio. Senti, padre Massimiliano, Righetta è stata anche la protagonista di una vocazione particolare che poi è anche la vocazione di ciascuno di noi, se vogliamo, quella dell'essere figlia. Però lei l'ha portata ad un livello, potremmo dire, un po' più alto. Ecco, ti chiederei allora di spiegarci questo passaggio della sua vita. Sì, sì. Righetta, io dico sempre, è un frutto maturo all'esterno, ma con un nocciolo duro all'interno. Ecco, aveva una volontà forte, tenace, ereditata, sì, ma coltivata anche nei primi anni della sua vita, con la palestra della volontà che si chiama appunto sacrificio. È in quest'ottica che si comprende anche, come tu dicevi, questa nuova vocazione e che ha fortemente richiamato il cardinale Semeraro, prefetto di Castero delle Cause dei Santi. Il prefetto ha detto in quell'occasione della presentazione del mio testo, ecco, quella di Righetta è una vocazione non catalogabile negli schemi tradizionali della vita cristiana, ossia la sua vocazione è la vocazione ad essere figlia. Ed Righetta lo sapeva che era la figlia di Santi, di genitori Santi, ma soprattutto visse fino in fondo il suo esterno. E quindi Righetta rilancia il ruolo della famiglia, il ruolo della famiglia, perché la sua vita è un tessuto di grazia, è un tessuto però con la famiglia, cioè la venerabile non si può comprendere se non il ragione della famiglia. Per cui la famiglia non è solo il luogo dove diventare santi, ma è lo strumento per diventarlo. Giustamente tu richiamavi fatto di Sir Lucia, e infatti alla chiamata del Signore non si risponde solo in famiglia, ma con la famiglia. Papa Francesco dice o ci si salva tutti insieme o non ci si salva, quindi la famiglia è la cellula primordiale, oggi purtroppo, in una cultura dove domina l'individualismo. Ecco, l'individualismo. E Righetta diventa in questo senso una provocazione, un'alternativa per una vita buona, bella, piena, sensata. E ha realizzato quello che noi diciamo, ecco, volendo utilizzare una frase del Concilio Vaticano II, quella sintesi tra contemplazione e azione, tra fede e vita, tra tradizione e modernità. Insomma, ha realizzato, ecco, l'unità di vita, che oggi a noi è tanto difficile. Molto interessante, sì. Senti, padre Massimiliano, noi l'anno scorso in queste ore stavamo vivendo il decimo incontro mondiale delle famiglie e i coniugi Beltrame Quattrocchi, i genitori di Righetta, erano posti come patroni particolari, come modello, ecco, a cui le famiglie dovevano e devono continuare, ovviamente, ad ispirarsi. Allora vorrei chiederti, visto che il tempo corre e che purtroppo siamo quasi in chiusura. A partire dall'esperienza della vocazione dell'essere figlio, ovviamente, come abbiamo avuto modo di capire di Righetta, e dei suoi genitori, dei coniugi Beltrame Quattrocchi, stiamo vedendo anche l'immagine nel nostro schermo, come possono le nostre famiglie, oggi, in questo tempo così travagliato, prendere spunto da questo modello, potremmo dire da persone che ce l'hanno fatta. Ecco, passami questa espressione. Certo, certo. Dico subito che questi coniugi non hanno cercato fuori dal matrimonio, ma dentro il sacramento, la forza della grazia che riabitava. Ecco, hanno scavato a fondo nella grazia del sacramento del matrimonio per rispondere alle esigenze quotidiane della vita. Perciò è un fortissimo invito ad attingere alla ricchezza che già hanno gli sposi nella vita cristiana. E quindi mettere al centro la vita matrimoniale, la vita coniugale, la vita familiare, perché questa è una ricchezza per tutto il mondo. Il messaggio che questi coniugi, questa famiglia, benedetta da Dio, lancia a tutti, è proprio questo. Questi coniugi hanno fatto il bene che potevano fare e lo hanno fatto bene, cioè con la cura del somma del dettaglio. La cura somma del dettaglio. E qual è? Anzitutto l'ascolto del nascituro, il diritto alla vita. Hanno ascoltato, quando c'era questa gravidanza difficile, il diritto alla nascita di questa bambina che era impossibilitata secondo le condizioni cliniche del tempo. E poi col mettere Dio e non l'io al primo posto nella vita coniugale e nella vita matrimoniale. Perché sapevano molto bene, sapevano che poi la grazia avrebbe realizzato questa fusione di cuori in Dio. Abbiamo tanti motivi su cui riflettere, padre Massimiliano, a partire da questa vicenda così bella che stamattina abbiamo voluto per certi versi tratteggiare. ci sarebbero tanti e tanti altri motivi su cui riflettere ovviamente e partire dalle esperienze di vita di questa famiglia. Noi però purtroppo dobbiamo salutarci e ci diamo però, padre Massimiliano, appuntamento in futuro per continuare a parlare di queste tematiche così importanti. Nel frattempo io però ti ringrazio di cuore per essere stato con noi. Grazie a tutti e buona giornata. Pace bene. Grazie. Ringraziamo fra Massimiliano Noviello, Cappuccino, postulatore delle cause dei Santi, autore anche di numerose pubblicazioni su Enrichetta, Beltrame Quattrocchi e sui suoi genitori beati. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme. Grazie.